E vengo dall'Egitto. Ah, mi piacere, perché io, sono bengalese, mi piacerebbe una persona come Asia. Asia? Cioè, l'Egitto è in Africa. Attenzione, l'Egitto è in Africa. Ti piace il lavoro di maestro, insomma? Perché c'è qualcosa che ti fa pensare il contrario. Qui mi sento a casa, qui sono di casa. Stanno ridendo perché per la prima volta stai parlando in italiano. Cercasi. No, cercasi, cercasi. 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 Io dico, se anche questo 300 euro non c'è, ancora peggio. Ma non è lavoro, è schiaveta. Quattro giorni sono state dentro un tir, senza mangiare, senza bere. Lasciamo stare? Vogliamo firmare l'appello? No, non firmiamo l'appello. No, non firmiamo l'appello. Grazie.